Allora, qui abbiamo il centro di raccolta diciamo più di mezzo, questo è l'autoparco principale di Asia, da qui esce il servizio che va sui distretti C8, C10 e C9 e più facciamo la raccolta, esce il servizio di raccolta campane della multimateriale, del vetro e della carta per tutta la città, poi in più di qua escono pure i servizi di carichi laterali che teniamo sul postilico e sul capo a sul capo. Io sono contento di essere qua perché come abbiamo detto l'altra volta anche pubblicamente quindi non lo dico solo qua, noi siamo molto soddisfatti del lavoro che state facendo in condizioni molto difficili, condizioni molto difficili sia dal punto di vista di mezzi, strutture che anche economiche, però la volontà nostra, l'avete visto, è quello di lavorare tanto e di lavorare per migliorare la città e per migliorare tutto ciò che serve per rendere questa città e chi vive in questa città più a misura d'uomo. Il vostro lavoro è fondamentale perché l'immagine della città si misura innanzitutto da come si presenta a chi vive a chi vive in questa città. Noi stiamo cercando, abbiamo ereditato una situazione drammatica da parte di chi ci ha lasciati, io stanotte sono stato fino a luna in ufficio per fare l'ennesima riunione del bilancio del comune, però tutte le risorse sia immediate sia in termini di investimento e anche di capitalizzazione della società che il comune poteva mettere in atto da subito le abbiamo fatte e altre le metteremo nelle prossime ore. Quindi noi puntiamo moltissimo sul lavoro di raccolta e smaltimento dei rifiuti e puntiamo anche affinché Napoli con l'orgoglio possa anche essere autonoma, basta aspettare che devi ripendere dal bossi che si sveglia la mattina o da quell'altro che deve decidere con noi con che cosa dobbiamo fare. Napoli è una città, è una grande città, ha tutte le potenzialità con il tempo per farcela da solo. Il sindaco è presente, è vicino, non vi abbandono e spera di riuscire a vedere finalmente le prossime ore, ma già vedo un miglioramento significativo negli ultimi quattro giorni e di non vedere più le immagini dei giorni scorsi in modo da poter dire che insieme a voi, tutti quanti insieme, siamo usciti dal tunnel per poi assestarci perché poi c'è la sfida della differenziata, la sfida del compostaggio, io credo che Napoli darà una grande prova di maturità e di capacità di essere addirittura prima in Italia per certi aspetti, da settembre, quindi adesso usciamo in questi giorni dalla situazione drammatica, siamo tutti qua, Rafa e Rossi l'abbiamo voluto perché portasse anche la dinamicità e la voglia proprio di questa amministrazione di dare il massimo, abbiamo valorizzato anche chi ha lavorato fino adesso, contiamo molto sui lavoratori che sono la forza determinante di ogni rivoluzione, senza i lavoratori non ce la da nessuna parte, quindi buon lavoro e il sindaco sta con voi. L'obiettivo è quello di partire immediatamente in applicazione dell'ordinanza coemanato per realizzare le isole ecologiche nelle varie municipalità, prepararci con questa grande campagna di informazione, sapendo, e questa è un'altra buona notizia, io giro molto la città, vi è una grande disponibilità di tutti a contribuire nell'educazione, nell'informazione e nella comunicazione della raccolta porta a porta, dall'unione industriale, ai commercianti, all'università, addirittura i detenuti del carcere di Poggio Reale tramite il direttore hanno rappresentato simbolicamente la loro posizione, per dire dagli studenti, ieri ho incontrato al San Carlo mille insegnanti, mi hanno detto che a settembre cominceranno la scuola proprio con i ragazzi sulla raccolta differenziale, io credo che Napoli saprà dare una grande risposta a chi pensa che il problema sia l'inciviltà dei napoletani, quindi l'esempio viene dall'alto, l'amministrazione lo vuole dare e confida molto in quello che voi state facendo e che potete fare nell'interesse non del comune ma dei cittadini napoletani, qua siamo tutti bene o male cittadini di questa città, quindi buon lavoro e per qualsiasi cosa, qualsiasi indicazione, noi siamo, le nostre porte sono sempre aperte, quella dell'assessore all'ambiente del vice sindaco, quello del presidente di tutto il consiglio di amministrazione, l'obiettivo è quello di cercare anche in un momento di difficoltà di mettervi nelle condizioni di rendere al meglio un servizio difficile ma molto importante per la città.